40 musicisti, 10 attori, 3 compositori, oltre ad uno staff di 15 tecnici, fotografi, fonici e videomakers, tutti under 30. Sono i protagonisti di Cruda Beltà, la stagione musicale articolata fra le Fonderie Limone di Moncalieri, Torino e Collegno, e promossa da Archeia, una orchestra di archi formata tutta da giovanissimi. Archeia Orchestra è una realtà giovanile che è nata sette anni fa a Torino, da cinque anni è un'associazione culturale che racchiude tanti giovani musicisti e non musicisti, ruotano attorno ad Archeia 40-50 persone, Archeia si sviluppa sotto forma di un'orchestra d'archi, però prevede anche al suo interno ensemble misti, quindi ci sono anche percussioni, fiati, eccetera, eccetera. È una realtà giovanile attiva sul territorio torinese che collabora con altre realtà giovanili, sempre sul territorio, per cercare di creare facendo rete insieme. La diretta espressione d'Archeia ovviamente è la musica, ma più in generale tutte le forme d'arte. Patrocinata dalla città metropolitana di Torino e dalla città di Moncalieri, la stagione si compone di quattro spettacoli che fondono musica, canto e teatro e che si rivolgono anche alle scuole, portando in scena il sempre più difficile rapporto tra uomo e natura. Cruda beltà, ovvero la crudele bellezza, è il titolo della stagione 23-24 che vi presentiamo, con la quale vogliamo raccontare il forte contrasto che c'è nel rapporto tra natura e uomo, un rapporto di amore ma allo stesso tempo di terrore. Cercheremo di farlo attraverso quattro spettacoli in questo modo distribuiti. Il primo sarà un concerto, nella tradizionale forma del concerto di musica classica, nel quale però interverranno anche due attori a raccontare qualcosa. Ci saranno poi tre spettacoli musicali con testi e musiche originali inedite, dei compositori Giuliano Comoglio, Marco Amistà, di Filippo Donà e testi anche di Enrico Granzotto. Spettacoli che con varie sfaccettature, in vario modo, più o meno didascalico, più o meno narrativo, cercheranno di raccontare questo tema e faranno in modo di avvicinarlo al pubblico più ampio possibile, dai giovani della terza media in avanti. Speriamo di poter muovere qualcosa nel profondo delle coscienze individuali con questo tema che è sempre più urgente per tutti noi ogni giorno di più.